Ciao amici e benvenuti in questo nuovo episodio di Insalato che lavano e qui come me c'è Andrea Mbimbo, medico veterinario specializzato in medicina interna. Ciao a tutti! Oggi parleremo di un bellissimo argomento che secondo me è molto richiesto dalle persone, ovvero quali sono gli esami di routine a livello di prevenzione che possiamo fare al nostro cane? Ok, domandona. Allora, innanzitutto dobbiamo partire dal discorso che bisogna capire che età ha il nostro animale, perché c'è un discorso di prevenzione sia di esami, come hai detto tu, ma anche di prevenzioni profilassi ex esami, quindi parlo di discorso vaccinale, magari di prevenzione antiparasitaria, eccetera, eccetera. Intanto dobbiamo scendere da questi due argomenti e anche l'età. Partiamo cane e cucciolo, quindi cane e cucciolo abbiamo il vantaggio che ovviamente esami ematobiochimici, esami del sangue, urine, magari possono essere anche addirittura superficiali alcune volte, mentre è fondamentale fare il discorso profilassi per esempio vaccinale, perché hai preso appena un cane nuovo, sai che comunque il cane e cucciolo deve fare molti più esami, molti più vaccini rispetto all'adulto, perché deve stimolare in modo completo l'immunità, quindi se nel cucciolo magari bisogna vedersi un po' più di volte rispetto che l'adulto, l'adulto invece basterà una volta all'anno fare il vaccino annuale. Quindi discorso vaccino direi una volta all'anno siamo a posto nell'adulto, nel cucciolo fatevi consigliare dal vostro veterinario, ma magari due o tre volte in base all'età ovviamente. Poi un altro discorso di prevenzione sono i parassiti, che poi quelli li vedremo poi, quelli ectoparassiti, prevenendo parassiti magari quelli che per esempio, non so, i vermiciatri che potete trovare nelle feci del vostro cane, quelli magari è con coprologico annuale, io quello sinceramente lo consiglierei. Esempio i coccidi, scusati se ti interrompo. Coccidi forse più ne cucciolo, ascaridi o comunque platelminti, vermi piatti, nel cane adulto anche ci possono essere. Ci sono dei begli studi che dicono che comunque è sottodiagnosticato il problema, perché il cane adulto magari ha qualche verma intestinale, non gli crea nessun problema, quindi va di corpo regolarmente, magari aumenta un pochettino l'appetito, ma non ce ne accorgiamo. Può continuare la sua vita pura avendo quel verma all'interno. Può continuare assolutamente, però magari tanto si comporta l'eliminatore, quindi non è corretto magari per la gente che va al parco con il proprio cane, perché può infestare anche gli altri cani. Poi comunque dei disturbi pian piano può darli, quindi sinceramente quello che consiglio è o fare una sverminazione regolare, cosa che molta gente fa, oppure almeno un esame coprologico annuale lo farei. Comunque sapere se hai infestato il mio cane, cosa e trattare nel modo corretto, secondo me è una scelta ottimale. Quindi diciamo annualmente vaccino, è ben detto, esame coprologico, sì assolutamente sì. Poi c'è il discorso patologie infettive, quelle che non si coprono con i vaccini, quindi dico filariosi, che è un verme cardiopolmonare che conosciamo tutti quanti bene, se avete un cane non lo conoscete, lì si può fare due tipi di prevenzione, o la pastiglietta mensile, che va a uccidere le microfilare, quindi i microvermicelli che ci sono all'interno del torrente circolatorio, lì vanno a ucciderli, oppure si fa una puntura, un'inoculazione annuale che non è un vaccino, anche se molti dicono, dottore mi faccia il vaccino per la filare, non è un vaccino, anche se si inocula ma non è un vaccino, e è un prodotto che rimane all'interno del circo lematico per un po' di tempo, quindi va a uccidere il parassita che può incontrare il prostrocane durante tutto quel periodo lì, quindi diciamo che fa la copertura annuale, tra virgolette. Ovviamente prima di fare questa puntura, prima di fare questa terapia, dobbiamo essere 100% sicuri che il nostro cane non abbia patologia, quindi un test filare si fa, normalmente annuale, prima di farlo, e ovvio che se io faccio una copertura standard, quindi tutti i mesi dell'anno lo faccio, il test ovviamente non ha senso, quindi quello è un test che può essere facoltativo, nel senso che se io faccio sempre bene la prevenzione posso non farla. Se io non l'ho fatta per un anno, per X ragioni, mi sono dimenticato, non so, batte la pesca, non l'ho fatta, dovrò fare ovviamente il test, perché se io faccio una terapia in un paziente che invece ha degli adulti, può creare delle reazioni anche anafilattiche o comunque delle reazioni avverse che possono dare dei problemi seri all'animale. Quindi è ben detto. Vaccino. Coprologico, test filare assino, lesmagna, dobbiamo parlare della lesmagna, lesmagnosi e allora... Va fatto un esame, anche qua primo per capire se eventualmente ce l'ha o no. Esatto, lesmagna differenza è che è una malattia che non c'è proprio ancora in tutta Italia, in tutte le parti, quindi fa molto... Qua è fondamentale che il veterinario vi dica se la vostra zona è una zona endemica, quindi c'è un rischio reale. Esatto. In quel caso va fatto ogni anno comunque, io consiglio verso marzo-aprile. Quando inizia il caldo? Sì, poi adesso ti dico anche perché marzo-aprile. E ovviamente se invece io vivo in una zona dove non c'è la lesmagna non ha senso farlo. Se invece mi sposto, lì ovviamente devo farlo. E il senso di proporlo verso marzo-aprile, febbraio, così... Allora, tanto sì perché inizia la bella stagione, quindi poi ha senso fare eventualmente il vaccino della lesmagna se vivo in una zona endemica in quel periodo lì. Ma anche fatto per questo motivo. Se io per esempio vivo al mare, in una zona endemica dove c'è tanta lesmagna, il mio cane viene punto da un flebotomo, prenderà lesmagnosi, però magari risponde in modo corretto e la elimina. Io comunque a settembre-tove troverò un titolo alto anticorpale. Quindi non saprò se è veramente malato o se è solo incontrato la malattia, ma risponderà in modo corretto e la eliminerà da solo. Farlo invece a marzo-aprile è un vantaggio perché se lì è ancora positivo, ovviamente vuol dire che la malattia probabilmente è riuscita a tecchire un organismo, non è stata eliminata e quindi è un paziente che io vado a monitorare nel tempo e valuto anche se trattarlo o no, ok? Quindi lì proprio un altro discorso. Se è negativo, poi posso scegliere se fare il vaccino o la lesmagna. Se per esempio vivo in una zona endemica lo faccio. Se io vado ogni tanto al mare, ci ragiono col veterinario, ok? Perché lì ci sono pro e contro per farlo o no. Poi comunque magari... Si valuta la situazione. Quello sempre e poi magari ne potremmo parlare e quando prendiamo la prossima volta i antiparsitari facciamo un accenno sulla lesmagna. Esatto, sì. Quindi adesso ci mancano le urine e il sangue. Sì, quindi abbiamo detto vaccino, coprologico, lesmagna, filaria, esame urine e sangue. Allora qui quello ovviamente dipende dall'età del paziente. Ovvio che lì diventa anche difficile qualche volta da parte del veterinario proporre. Questo perché? Perché se io ho un animale che ha un problema, ovviamente devo andare a fare delle valutazioni di questo tipo. Invece il discorso preventivo è difficile. Perché? Perché è tanto difficile proporlo per il medico. Comunque potrebbe dire, cavolo, faccio spendere di più per una persona, magari non serve. Magari può anche risultare pesante per una persona vedere il veterinario che insiste per fare degli esami preventivi. Quindi spesso deve anche venire dal proprietario stesso e dire, ma magari quest'anno faccio un check-up generale per il mio animale? Perché comunque è come per noi. Cioè io a 28 anni magari mi faccio un esame del sangue annuale. Ci sono dei miei amici magari, adesso non so te quando hai fatto l'ultimo esame del sangue, però che magari lo fanno una volta ogni 5 anni, boom, chi se ne frega. Ma perché quello è prevenzione. Cioè puoi farlo come non farlo. Ovvio che se previeni è sempre meglio che curare. Però se io mi faccio l'esame quell'anno lì e ho niente, ho sprecato quei soldi. Però su qualcosa ci ho guadagnato perché ho intercettato in modo precoce una patologia. Quindi esame del sangue in urine a me viene da proporre più facilmente magari a un paziente che tende più verso l'ansietà. Cioè un cane di 2 anni, diciamo, se non ha nessun sintomo è molto difficile avere veramente dei riscontri poi su esami ematobiochimici e urine. Ovvio che... Non hai la sfera di cristallo. Esatto, hai detto. Se vuoi la garanzia è come l'assicurazione. Tu paghi ogni anno l'assicurazione, sei tranquillo poi se ti succede qualcosa. Se tu dici quest'anno non la faccio perché sono giovane, qua è sicuro non mi succede niente e poi ti succede... Eh. Eh, però... È l'IAIA. È l'IAIA, esatto. E quindi si valutano questi due esami. Sì, esame urine e esame ematobiochimici di base ti fa un buon profilo generale. Ovvio che poi è il medico curante che deciderà se fare o non fare degli esami più specialistici. Cioè io sto parlando proprio degli esami di base per un cane sano, di una certa età. Ovvio che poi parlavo di frequenza, un cane magari di 8 anni lo facciamo con una frequenza regolare almeno annuale. Un cane cucciolo magari se lo facciamo 3-4 anni magari può anche andare bene. Anche perché lì poi si apre un mondo a livello di eco, si può fare addominale, si possono fare esami del cuore. Allora certo, lì poi c'è tutto quel discorso sempre di indagini diagnostica per immagine. Lì è molto, secondo me, razza specifico. Sì. Perché io se un cane predisposto a delle patologie cardiache, penso, non so, al Cavalier King Charles, che sono predisposti per razza a avere patologie cardiologiche, ovviamente lì magari faccio delle ecocardi di routine. Oppure un cane di taglia grande, magari un'occhiata alla mizza ogni tanto gli darei ecografica. E quello diventa molto difficile per sempre con il discorso perché è vero che per venire il medico curare ma bisogna anche capire che cosa fare di specifico per quel cane e che ne valga la pena. Fare un discorso generalizzato, dire che tutti i cani devono fare un eco al cuore ogni anno, quello sbagliato. Perché ovviamente io di solito lì invece è più importante la visita clinica annuale, noto qualcosa che non va, allora in quel caso propongo qualcosa. Ma se è tutto sano, cioè secondo me è molto più importante ed è una cosa che magari anche alcuni medici tendono a bypassare qualche volta perché si è di fretta, il proprietario rima in ritardo e la fila fuori. No, invece la visita clinica è sempre la parte fondamentale, fa il 90% del nostro lavoro e quello poi ti fa da screening per tutte le altre cose. Come fa poi il medico di base, che purtroppo tutte le criticità che ci sono, ma anche il medico di base è quella la funzione. Individuo il problema e poi indirizzo verso lo specialista. Vai a filtrare in quel momento. Esatto. Sta bene qua? Via, tolgo, tolgo. Anche perché se dovessimo fare tutti gli anni tutto, anche per un proprietario, poi diventa magari difficile e dispendioso, noi bisogna indirizzare. Si fa la visita annuale col vaccino, ma il vaccino è una cosa in più per prevenire, ma la visita annuale è quella importante. Cioè io che mi batto spesso anche col proprietario, non è che oh cavolo ho dimenticato il vaccino. Sì, il vaccino è importante farlo, ma la cosa più importante è la visita annuale, perché la visita che poi previene, perché magari intercetti un problema che in realtà non dà peso subito, ma lo intercetti in modo precoce e dai qualità e vantaggi di vita all'animale. Alla fine la prevenzione serve a quello. Certo. A prevenire, meglio che curare, come dice il detto. Sempre, sempre. Io direi che abbiamo già detto tutto per oggi. Direi sì. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, se avete dubbi o domande scrivetele qua sotto. Alla prossima. Ciao. Ciao.